E' stato attivato tra gli indirizzi di studi del Polo 3 di Fano, che già contempla il corso tecnico Apparati e Impianti Maritimi Archimede, il tecnico economico Battisti, il tecnico di grafica e comunicazione Seneca, il professionale servizi commerciali Olivetti e la professionale manutenzione e assistenza tecnica Volta, il nuovo indirizzo sulla gestione delle acque e sul risanamento ambientale. Un corso che vede la collaborazione della Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Urbino e dell'ASET SPA, l'azienda fanese che gestisce il servizio idrico nel territorio. Si tratta di un corso quanto mai attuale e dalle grandi prospettive occupazionali che è stato presentato dalla dirigente Maria Eleonora Augello. E' proprio una formazione con un'attenzione particolare all'ambiente in generale e all'ambiente che gravita attorno al mondo dell'acqua in particolare. I dissesti idrogeologici che vediamo in giro un po' in tutta Italia, non solo nel nostro territorio, sono dovuti forse a scelte di progettazione, di gestione del territorio, di investimenti nel territorio sbagliati e mancanza di investimenti nella gestione degli invasi. Ecco perché penso che nel futuro ci sarà bisogno di un grande investimento in questo settore. Quindi personale qualificato, tecnico, con competenze specifiche, che sa utilizzare le strumentazioni che sono necessarie in questo settore, che sono strumentazioni particolari, sia sicuramente una delle professioni del futuro. Non a caso la slide si intitola la scuola che forma professioni del futuro. Non aveva senso iniziare, dare origine ad un nuovo indirizzo tecnico, professionale che fosse, ma con una professione già consolidata nel tempo, che già esiste come offerta formativa. Dobbiamo pensare e guardare al futuro. è questo che penso sia uno dei compiti della scuola. Quella di esperto nella gestione delle acque è una figura carente nel territorio. È per questo molto attesa da aziende come l'Aset Spa, il cui presidente Paolo Reginelli ha messo in evidenza le opportunità lavorative. Abbiamo notato che ci sono delle difficoltà oggettive nel ricercare determinati personali con determinati skill professionali. Quindi abbiamo sopperito per molto tempo con l'esperienza, di operatori che sono arrivati in determinate situazioni e hanno aumentato le loro capacità organizzative e tutto il resto. Quindi non ci dispiacerebbe che si creassero dei nuovi posti di lavoro proprio tramite queste nuove professionalità. Pensiamo che siano delle esigenze che non riguardino solo l'Aset, ma tutta una serie di realtà che agiscono sul territorio e che hanno le nostre stesse problematiche. Quando ci è stata proposta dal polo scolastico, in particolare dal preste, questo genere di situazioni abbiamo aderito con grande piacere. L'aspetto sanitario e ambientale del nuovo corso è stato sottolineato dal professor Mauro Magnani dell'Università di Urbino. Troppo spesso noi non abbiamo la piena consapevolezza di quanto sia importante, come diceva lei, nell'industria, nella nostra vita quotidiana, ma anche per tante altre cose, forse meno percepite, meno famose, ma assolutamente importanti. Come può l'Università sostenere questa iniziativa? Cercando di creare questa consapevolezza, attraverso l'impiego dell'acqua sono nate anche nuove tecnologie, sono nati nuovi materiali, sono nati nuovi metodi diagnostici, per esempio. Oggi attraverso l'acqua noi siamo in grado di riuscire a capire quanti farmaci in una città vengono impiegati, quanti virus in un certo giorno in una città sono presenti e quali sono le possibilità che noi abbiamo per fare sì che attraverso nuovi materiali possiamo garantire la purezza, la salubrità di queste acque perché possiamo poi utilizzarle a pieno.